Ripristinata la circolazione in via Donatori di Sangue a Como, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è aperta un'enorme voragine. L'asfalto ha ceduto e sul posto sono intervenuti i tecnici comunali. La strada rappresenta un'alternativa al viadotto dei lavatoi per i mezzi pesanti, che ieri sera sono stati deviati dalla Canturina verso la Napoleona. Questa mattina la situazione è ritornata alla normalità. Intanto proseguono i lavori su altre arterie cittadine. Oggi fino alle ore 17.30 è prevista la potatura del filare alberato di Tigli lungo via per San Fermo. Per l'intervento nel trato interessato è stato istituito il senso unico alternato regolato dai muglieri. Domani a partire dalle 9 saranno potati tre platani a lato della rotatoria di Largo Ceresio, dove sarà istituito il divieto di sosta. Per consentire la posa di nuove tubazioni di Comoacqua e completare la rete fognaria in via Santelia, da domani al 26 marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità che interesseranno via Santelia a partire dall'intersezione con via Cavallotti avanzando verso via Recchi. Dal 22 al 24 febbraio, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, è previsto un restringimento della carreggiata in via Cavallotti per l'occupazione delle due corsie adiacenti a via Santelia, con la deviazione del flusso veicolare sulla corsia riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico e la regolazione della circolazione con senso unico alternato regolato dai movieri. Nella prima fase dei lavori, durante il giorno, sarà sospesa la circolazione in via Santelia nel tratto da via Cavallotti a via Bossi, garantendo sempre il transito pedonale in sicurezza. Resterà consentito l'accesso a via Bossi per i veicoli provenienti da via Recchi.